Ciao a tutti, sono Pavel, Ocno per gli amici. Oggi vi parlerò di Standard Ovas Top 10. Non so chi di voi già si è approcciato al mondo della security. Standard Ovas Top 10 praticamente sono le dieci più grandi vulnerabilità degli ultimi anni che sono più sfruttate e più utilizzate per i principali attacchi di sicurezza informatica. Mi presento, per chi non mi conosce, sono un membro attivo della Community Underground Hacker nazionale e internazionale da più o meno 15-16 anni, partecipo ad eventi, bevo, mi diverto e conosco un sacco di gente. Mi occupo di sicurezza offensiva e sicurezza difensiva per un'azienda di Venezia. Sono security researcher, security tutor. Security tutor cosa vuol dire? Se qualcuno ha bisogno, c'è qualche problema, in azienda principalmente, seguo tutto quello che è la parte di formazione del personale per evitare spionaggio, antispionaggio, eccetera. Certificato CCNA e utilizzo Standard Ovas per, durante le metodologie di lavoro, Penetration Test e Vulnerability Assessment. Che cos'è la sicurezza informatica? C'è questa fantastica citazione dell'avvocato Pierluigi Perri, che è anche lui un altro grande hacker italiano molto presente nella scena. Questa frase è bellissima. Non esiste una vera e propria definizione di sicurezza informatica, possiamo comunque delinearla come la scienza che studia come proteggere le informazioni elaborate e trasferite elettronicamente a dati indesiderabili che possono avvenire accidentalmente o essere frutto di azioni colpose o dolose. Qua in mezzo so che ci sono persone che hanno fatto volontariamente azioni colpose o dolose, non indico nessuno. La sicurezza informatica. Una cosa importantissima da tenere in considerazione è che non esiste un sistema sicuro al 100%. Infatti il mito del sistema inattaccabile è analogo al mito della nave inaffondabile. O comunque, come mi ha detto anche prima un amico, è come il mito della donna fedele. Sicurezza informatica. Molti pensano che Linux, OSX, comunque sistemi Mac, sono sicuri. Assolutamente no, perché sono vulnerabili tanto quanto tutto il resto. Una cosa importante da precisare è che il livello della sicurezza di un sistema è dato dal tempo necessario per violarlo, dall'investimento necessario e dalla probabilità di successo, che per nostra fortuna con le nostre competenze sia aziendali che grazie agli amici, ad oggi tutti i target che sono stati controllati sono stati sfondati al 100%. E questa è una grandissima soddisfazione personale e anche aziendale. Una cosa da definire è appunto che un sistema più è complesso, più è insicuro. Si pensi semplicemente a le software house che hanno decine, centinaia di programmatori. Ognuno sviluppa, la maggior parte dei programmatori non comunica tra di loro o comunque il programmatore sviluppa, non comunica col sistemista, il sistemista non comunica con chi si occupa della gestione della rete e non essendoci questa comunicazione perfetta tra i componenti di questi team, si vanno a generare quelle che possono essere vulnerabilità, problematiche o semplicemente dimenticanze in fase di configurazione. E le entità che compongono appunto un sistema informatico, comunque un sistema in generale sono l'hardware, quindi reverse engineering nel caso di hacking, software, exploit analisi manuale e humanware, quindi social engineering, quindi andare ad agire direttamente sul come dire, prendere per il culo le persone per riuscire a farsi dare informazioni a loro inseputa. Parliamo adesso di cos'è l'OVASP. L'OVASP è praticamente l'Open Web Application Security Project. C'è un gruppo di ragazzi in giro per il mondo, si sono uniti e hanno creato delle linee guida per cominciare ad adottare metodologie per effettuare penetration test, vulnerability assessment e comunque dare delle linee guida che sono necessarie per ottimizzare il lavoro, creare uno standard sul nostro lavoro, quindi quello di penetration tester. Una cosa bellissima della community OVASP è che è attiva in tutto il mondo e quest'anno per fortuna abbiamo anche l'onore di avere qua l'Italian Chapter che dovrebbe arrivare se non sbaglio domani o dopodomani a unirsi al nostro tendone security. Quindi se poi volete approfondire l'argomento relativo a OVASP ci sarà Simone Onofri e Guli che si occuperanno, che sono i diretti referenti dell'Italian Chapter di OVASP. OVASP cosa vi offre? Vi offre innanzitutto tantissimi siti o comunque il loro wiki, il loro portale principale con tutte le informazioni relative alle principali vulnerabilità, le statistiche relative agli attacchi degli ultimi anni e vi dà tutta la strumentazione relativa alla metodologia dello standard OVASP. Lo standard OVASP adesso, quello che vi illustro adesso, sono le falle che sono state considerate standard OVAS Top 10 dal 2013 fino ad oggi. Ad oggi non sono ancora cambiate ma so che a breve dovrebbe uscire la nuova scaletta dello standard OVAS Top 10 in quanto sarà aggiornata dalla community OVASP, credo a breve, se non è già stato fatto non mi sono ancora aggiornato. Principale, prima vulnerabilità considerata A1 nello standard OVASP è l'injection che immagino tutti sappiate di cosa si tratta. Quella naturalmente più appetibile, più sfruttata, più utilizzata da chiunque è l'SQL Injection. Quindi si sviluppa un'applicazione, si scrive una query in maniera corretta, non si chiude in maniera corretta, non si sanitizza il parametro in maniera corretta, permette a chiunque di sfruttare questa query per poter accedere all'interno del sistema. Quindi iniettando un ulteriore query che può essere un drop, può leggersi tutto, può iniettare query all'interno della query. Diciamo che non è dedicata questa tipologia di vulnerabilità secondo lo standard OVASP, non è soltanto per l'SQL Injection, ma si appoggia anche a tutte le altre tipologie di injection che possono essere tipo host command injection, led up injection, XML injection, ORM injection eccetera eccetera. E anche qua ORM injection ci sarà un altro talk di Simone Onofri tra qualche giorno, molto interessante e molto tecnico relativo all'ORM injection. E naturalmente qua si può, lo scopo della vulnerabilità è poter accedere a informazioni e dati che normalmente non dovrebbero essere accessibili dall'utente che sta utilizzando quell'applicazione o servizio web. Seconda vulnerabilità, cross-site scripting, anche questa è diciamo che quella che viene ad oggi più utilizzata in assoluto quando si tratta di ingegneria sociale, quindi attacchi di phishing, social engineering eccetera. Il cross-site scripting praticamente permette agli attaccanti di eseguire degli script malevoli via browser se un utente preme un link particolare. Per esempio, io sono logato su un mio gestionale aziendale, mi arriva una mail di phishing con scritto guarda qua c'è una bella donnina, premi qua, io vado, premo il mio link, questo link mi va eventualmente a prendere i cookie del mio browser e permette a utenti malintenzionati di sfruttare i miei privilegi su quel portale per poterci lavorare liberamente, quindi cookie injection eccetera. Terza vulnerabilità, broken authentication and session management. Praticamente le procedure applicative relative all'autenticazione possono avere delle problematiche. Pensiamo per esempio a chi sviluppa un'applicazione che deve effettuare un login all'interno di un'area, di un applicativo, non controlla correttamente il token, magari il token diventa prevedibile o semplicemente mette una spunta all'interno dei cookie con loghead1 o loghead0, modifichi il cookie a manina, metti loghead1 senza user password se hai logato nel sistema. E queste sono debolezze che permettono appunto agli utenti malintenzionati di raggiungere aree ristrette all'interno di applicazioni. In secure direct object reference praticamente anche qua abbiamo un riferimento ad un oggetto che si verifica quando uno sviluppatore espone un riferimento all'implementazione interna di un oggetto. Cosa vuol dire? Nel caso in cui ci fossero dei file che non possono essere raggiungibili se non autenticati, se non viene fatto un controllo a priori su l'accesso a questo file, allora un utente sapendo l'indirizzo o comunque sapendo dove raggiungere questo file può raggiungerlo direttamente senza effettuare nessun genere di autenticazione. E quindi leggere anche qua dati che non dovrebbero essere leggibili dall'esterno però purtroppo lo sono per dimenticanze, per scarsa configurazione delle policy di security dell'applicativo. Cross-site request forgery, questa è una delle file più belle in assoluto perché sono quelle con le quali ci si può divertire di più su quello che sono le piattaforme bancarie, internet banking eccetera, perché praticamente sono sempre delle vulnerabilità riflesse, non sono delle vulnerabilità dirette perché bisogna sempre passare da un attacco di ingegneria sociale piuttosto che phishing. In poche parole cross-site request forgery permette di forgiare una richiesta all'interno di un applicativo. Facciamo l'esempio più classico, possiamo dire che un utente si logga sul suo internet banking, vuole fare un bonifico di 1000 euro per pagare l'affitto, io o io l'utente malintenzionato si mette in mezzo, crea un attacco di ingegneria sociale, quindi facendo premere un link a questa persona, questa persona preme il link, crede di fare il bonifico sul suo portale di 1000 euro, in realtà lui fa il bonifico, il pacchetto forgiato, cosa fa? Fa un bonifico di 10.000 euro all'utente malintenzionato e subito dopo richiede magari il token di autenticazione perché dice che era scaduto ma non è vero, perché l'utente mette prima il token reale e fa il bonifico da 10.000 euro, poi dopo gli appare di nuovo la pagina da 1000 euro di bonifico, deve rimettere il token perché crede che sia scaduto in realtà il suo token vecchio, era stato utilizzato dall'utente malintenzionato per effettuare il bonifico da 10.000 euro. Purtroppo questa è una vulnerabilità che ad oggi è sfruttata tantissimo e bisogna anche qua agire con diverse misure di sicurezza quando si crea l'applicativo perché se no non si ricorre a questo problema, si incorre in questo problema qua. Security misconfiguration, anche qua abbiamo svariati esempi di security misconfiguration, cioè si abilitano determinati servizi all'interno della propria infrastruttura per comodità, per utilizzo aziendale oppure per offrire un servizio più comodo ai nostri clienti. Il problema è che se questo web server, questo ftp server, questo ledapp, qualsiasi cosa essa sia, non viene configurato con, diciamo, una stretta misura di sicurezza, utenti malintenzionati che conoscono piccole vulnerabilità o semplicemente applicazioni che scannano la rete da mattina a sera, sono in grado di entrare all'interno dei sistemi, prendere dati e accedere a informazioni che in realtà dovrebbero essere sensibili tra azienda o cliente, tra cliente e cliente, eccetera, eccetera. Per esempio appunto qua possiamo fare, l'esempio più clamoroso è Shodan, Shodan cosa fa? Scanna tutta la rete del mondo, trova gli indirizzi IP, servizi sugli indirizzi IP e prova a fare il classico login, admin admin, admin password, prova a fare tutto quello che è lo standard di configurazione di un dispositivo. E in questo modo, come avete visto, ci sono state svariate problematiche tipo, un paio di mesetti fa c'è stato il problema di una centrale, un... cos'era? Aspetta, aiutatemi, aiutatemi. Quello su Shodan di WNC che c'era una pompa di calore... no, aspetta, che cos'era? Eh sì, esatto, è una rete elettrica controllabile direttamente tramite un pannellino e un utente poteva andare a premere on e off spegnendo questi generatori. Fantastico perché hanno utilizzato un WNC senza protezioni per comodità, perché così l'amministratore dell'infrastruttore dell'impianto poteva gestirselo da casa, ma allo stesso momento tutto il mondo poteva gestirselo da casa alla stessa identica maniera dell'amministratore o del gestore. In Secure Cryptography Storage, asset dello standard OVASP, qua appunto la maggior parte delle applicazioni ad oggi purtroppo non utilizza algoritmi robusti di cifratura o addirittura non li utilizza del tutto, quindi passano informazioni in chiaro e questo permette di accedere a qualsiasi tipo di informazione. Per esempio mi è capitato di vedere diversi siti di clienti che utilizzano carte di credito sul proprio portale, salvano i dati della carta di credito addirittura senza neanche criptare in Md5 o niente, quindi tramite un SQL injection entro all'interno, mi trovo i dati in chiaro della carta di credito, prendo i dati della carta e mi vado a fare tutti gli acquisti che ne voglia. Questo purtroppo perché adesso per fortuna piano piano le aziende, i programmatori in primis si adoperano a sfruttare tutte quelle che sono le misure di sicurezza minime, però anche quelle ad oggi non bastano perché ci sono i sistemi di cracking talmente evoluti che con anche algoritmi semplici è possibile comunque risalire a dati e informazioni nonostante criptati, quindi il consiglio è sempre di utilizzare robuste misure di sicurezza, robusti algoritmi per la cifratura. A8, failure to restrict your access, anche qua simile alla falla precedente della 4, cioè un URL dovrebbe essere raggiungibile all'interno di un portale solo se si possiedono determinate credenziali. Purtroppo se le credenziali e la gestione dei livelli di accesso all'interno del sistema non sono gestiti correttamente in fase di progettazione e programmazione, è possibile poter raggiungere direttamente un URL senza autenticazione o meglio ancora mettiamo un portale che ha 10 tipologie di livelli di utenti, amministratore, editor, revisore eccetera. Si log al revisore in teoria non potrebbe neanche modificare dei documenti, ma semplicemente modificando un parametro all'interno del cookie o andando a richiamare un URL che dovrebbe essere raggiungibile solo dall'amministratore, lui entra lì dentro ed esegue operazioni come se fosse l'amministratore. Quindi anche qua viene a meno quello che è il metodo di sicurezza per poter proteggere una determinata area all'interno di un portale. A9, insufficient transport layer protection, qua appunto le applicazioni web spesso falliscono nell'autenticare, cifrare, proteggere la confidenzialità. Questo sempre per il motivo che spiegavo prima, cioè che non vengono adottate misure di criptografia elevate e molte volte è possibile sfruttare determinate vulnerabilità per poter accedere a dati criptati. Facciamo l'esempio di un certificato SSL invalidato, se invalidato in maniera corretta e viene installata la certification authority sul client, l'utente che fa il man in the middle può prendersi e leggersi liberamente tutti i dati che transitano all'interno di una rete perché o appunto gli algoritmi non sono robusti o sono presenti certificati invalidati o addirittura scaduti, come purtroppo succede sul 99% dei siti ad oggi in commercio. Unvalidated, restricted and forwards, anche qui è sempre una vulnerabilità dovuta a un'errata configurazione, un'errata gestione dei livelli di protezione dei file o comunque di singole pagina o comunque di aree all'interno di una applicazione web. Anche qua la problematica principale è che se non viene gestito un corretto livello di controllo su tutte le url, su tutti i file, su tutte le aree di gestione dell'applicazione è possibile utilizzare forward tramite sempre attacchi di phishing o ingegneria sociale per poter accedere a informazioni alle quali non dovremmo essere autorizzati ad accedere. Purtroppo comunque ad oggi la security è veramente a livelli bassissimi e parlo soprattutto del mercato italiano. Il mercato italiano è messo veramente male, per fortuna anche dall'altro lato stanno nascendo tante realtà di sicurezza informatica che stanno cominciando a sensibilizzare privati e aziende nell'ambito della security. Purtroppo però ad oggi si fa ancora molta fatica, soprattutto in Italia c'è questa mentalità che prima mi faccio rubare in casa e poi installo l'allarme. La stessa cosa avviene in tutto quello che è il mondo della sicurezza informatica. Prima mi faccio sfondare il server e poi dopo chiamo un'azienda che mi fa penetration test vulnerability assessment. Quindi se qualcuno di voi comunque si occupa o fa sviluppo software o gestione di infrastrutture mi raccomando chiamate aziende, anche la nostra per esempio, non sto facendo pubblicità. Direi basta se qualcuno ha domande. Nessuno? Nessuno che mi prende per il culo? Va bene, grazie. Grazie a tutti.